Non so se vi ricordate ma settimana scorsa io ricevetti una email da parte di un nostro collaboratore che mi parlava di un'impresa di un suo amico e dico mandami l'email dimmi che cosa vuole fare cosa vuole fare questo amico vuole fare un giro d'Italia dico bene sono contento lo fa in treno lo fa in macchina no lo fa in bicicletta e allora mi sono interessato l'ho chiamato io pensavo che fosse già partito sinceramente lo abbiamo già ospitato settimana scorsa però adesso inizia il bello cioè inizia il viaggio questo giro d'Italia qua vediamo la cartina di 7000 chilometri lui è già partito io pensavo questa mattina di avere la prima tappa di avere l'onore della prima tappa l'ha già fatta questo è già partito perché è pensionato da un mese ha deciso di festeggiare a suo modo con la sua bicicletta e do il benvenuto questa mattina a Vincenzo Cervi eccolo qua Vincenzo ciao buongiorno ciao buongiorno buongiorno a tutti ma sei già in campeggio cioè sei già in campeggio vedo sì è stata la prima notte in campeggio ieri ho fatto la prima tappa perché ho fatto fino ad Aosta in treno sì e poi da Aosta sono partito in bici ho fatto circa 70 chilometri tra l'altro ieri sono capitati capitato di tutto eh cioè cosa è successo? due chilometri poi ho forato poi si è piegato il oh sì che ho dovuto sistemare eh mezzo disastro poi ho sbagliato strada ma non ho mandato ho chiesto informazioni ma ho mandato in un bosco sono arrivato in un sentiero non riuscivo più ad andare avanti sono dovuto tornare indietro ho fatto quasi quindi chilometri in più quindi questi 7000 saranno 7010 chilometri no? questi chilometri in più senti Vincenzo allora intanto mi fa piacere eh vederti anche perché tu hai ehm iniziato questo questo ehm giro d'Italia questi 7000 chilometri eh tu addirittura andrai oltre la nostra trasmissione perché noi termineremo il ehm a fine giugno inizio di luglio ma tu sarai ancora in giro sarai ancora sarai ancora a fare questo questo tour perché sono 7000 chilometri non sono non sono pochi ti seguiremo man mano ecco non abbiamo un giorno prefissato ma ogni settimana insomma faremo i collegamenti quando sarà necessario con con Vincenzo Cervi anche per dar tranquillità alla moglie cioè a Giussi che non vedeva l'ora che tu te ne andassi no? per due mesi io non non lo vedo no no sto scherzando senti la domanda forse te l'ho già fatta l'altra volta perché hai deciso di di fare questo giro? tu sei da poco pensionato da 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 un mese perché hai deciso di partire con la bicicletta? ma è un'idea che ho in mente da parecchi anni e così è un sono quelle idee che mi vengono in mente ogni tanto e poi cerco di di metterle in pratica non c'è una motivazione vera e propria e così è una un ripeto sarà dieci anni che ho in mente questa questa cosa qua ah ok ecco tu hai già fatto comunque la prima tappa poi magari nella seconda parte vedremo delle delle immagini cosa hai pensato? cioè quando hai iniziato a fare questo giro d'italia che era sulla carta no? adesso poi hai cominciato a pedalare a parte la foratura sono piccole cose che possono accadere che cosa cosa pensavi in quel momento? l'idea fissa è che non so se ce la faccio perché tipo ieri è stato veramente sono pochi chilometri ma è stata veramente dura perché c'era un vento fortissimo addirittura sono dovuto scendere per diversi tratti perché il vento mi buttava per terra e addirittura andare per fare un esempio in discesa era come andare in salita è uguale doveva pedalare fortissimo perché sto vento era una cosa allucinante il vero nemico dei ciclisti è il vento ricordiamolo quando si va contro vento è veramente difficile anche se sei in discesa tra l'altro devo salutare vi faccio vedere ecco questa è la cartina ecco questa è la cartina del giro d'Italia guardate quindi tu andrai ma andrai anche all'estero anche a Monaco te ne vai anche a Monaco? no quel pezzo lì ho dovuto tagliarlo perché dovevo fare il colle di tenda poi scendere in Francia ma c'è il problema che c'è neve ah ok quindi rimani in Italia comunque in ogni caso questo è il giro poi arrivi a Roma e da Roma vai in Sardegna? sì da Civitavecchia prendo il traghietto vado in Sardegna e arrivo a Olbia perché se no a Cagliari sarebbe troppo facile sì arrivo a Olbia e giro praticamente tutta la Sardegna e poi ritorno ancora a Civitavecchia e proseguo quindi fai Alghero vedo vai verso poi Cagliari fai tagli la Sardegna poi risali e poi e poi torni a Roma sostanzialmente ritraghetti ritraghetti poi scendi 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 fino ad arrivare alla Sicilia fai praticamente tutto il perimetro della Sicilia fantastico quando beh in Sicilia quando ci sarai? a giugno credo no? siamo a metà sarai a giugno sì ci vorrà un mesetto più o meno comodo è bello dai quando arriviamo in Sicilia ci baciamo tutti oggi è la giornata del bacio occhio che quando arrivi in Sicilia poi ti devi baciare con tutti quelli che ti incontrano giro Sicilia e poi su dalla Puglia fai il Gargano mamma mia ragazzi e poi scusami ma quando arrivi arrivi anche quasi in Slovenia Croazia Trieste poi ti fai tutte le Dolomiti Trieste fa parte anche quello del giro poi risalgo e vado a fare ci sono alcune strade che del Trentino che volevo fare e le ho inserite per arrivare a Trento ma è incredibile incredibile insomma 7000 chilometri e tu finirai intorno a quando luglio metà luglio fine luglio credo sì spero di finire a metà luglio ma anche prima ma anche prima noi te lo auguriamo mi raccomando prudenza Vincenzo ma tu sei uno sportivo però sai noi sportivi quando andiamo poi molte volte non ci pensiamo invece bisogna assolutamente avere prudenza volevo salutare l'altra protagonista perché io ho già fatto vedere queste immagini la protagonista è ovviamente la sua compagna di viaggio che è la bicicletta guardate questa bandierina griffata griffata radio alta guardate questa è la sua bicicletta che è una muscolare non è una elettrica non è assistita la bandierina con radio alta fantastico questa cosa e poi farei un applauso a Giussi eccola qua Giussi è la moglie che starà guardando in questo momento arca miseria Giussi che ha avuto l'idea di cucire l'ha fatta lei la bandierina è giusto Vincenzo sì esatto le mogli sono straordinarie guardate con quante pazienza poi ha fatto la bandierina con il logo di radio alta bellissima questa è la tua bicicletta ce la descrivi un pochino perché la stiamo vedendo in questo momento in foto ma tu ce l'hai lì ecco la tua bicicletta inquadrala bene è una bici normale è una mountain bike normale ho praticamente dall'originale è rimasto il telaio e la forcella poi il resto è tutto completamente adattato per il viaggio dal cambio che abbassa un po' l'immagine Vincenzo eccola così la vediamo meglio perfetto vai dal cambio che è totalmente nuovo nello specifico ho messo un pacchetto pignoni posteriore arriva fino al 42 e per chi va in bici diciamo è abbastanza grande per permettermi di fare salite con quel peso che devo tirarmi dietro con un rampichino super rampichino insomma per poter salire senza vuote freni a disco ovviamente quelli da quelle grosse di 120 160 perché per il peso se non in discesa avrei avuto problemi certo poi il manubrio l'ho un po' adattato e gli ho messo anche gli appendici che sarebbero queste sì per poter mettere un carico e tutti i vari accessori navigatore eccetera eccetera e niente ho messo queste per tenda e saccopelo e poi il portapacchi posteriore che non si vede forse però sono quelli più lunghi quanto hai il peso quanto è il peso alla tara diciamo di quello che tu hai aggiunto attualmente penso di aver toccato i 25 chili eh calpita ragazzi poi c'è il peso della bicicletta poi anche il tuo senti vincenzo rimani lì perché dopo ci dirai invece perché questo è importante la tua preparazione perché è vero che è un'impresa diciamo goliardica bella no divertente però per poterla fare bisogna essere preparati tu sei uno sportivo non possiamo negarlo quindi vai a correre mi sei preparato anche su questo però magari ci dirai se sei stato seguito da qualche medico e i consigli che ti hanno dato per per questo viaggio veramente incredibile che temperatura hai perché ti vedo col cappellino dell'Atalanta no colori atalantini quanto meno qua non so ancora la temperatura però stamattina è freschino diciamo che non c'è umiltà e soprattutto non c'è vento almeno adesso ecco e poi c'è il sole quantomeno c'è il sole dai ci sentiamo fra poco con con Vincenzo hai già fatto colazione? non ancora non ancora quindi ecco poi mi dici che cosa ti hanno consigliato di mangiare per la preparazione quanto durerà la tua tappa la tua tappa di oggi poi c'è anche un video che ho preso da Facebook fra poco con Vincenzo Cervi per questo suo giro d'Italia pedalare stanca radio radio alta radio alta sono le belle cose che ci piace raccontare di questi di questi bergamaschi che stupiscono sempre ecco questa tappa 0-1 a Osta poi ho visto il video e dico ma chi te l'ha realizzato? c'è un ufficio che lavora per te che ti realizza no l'ho fatto io ieri non sapevo cosa fare ha fatto pure il video se l'è montato è incredibile sto ragazzo cioè Vincenzo Cervi tra l'altro Vincenzo guarda qua ci sono già i fan non mollare all'inizio è dura ma poi vedrai che andrà via come l'olio wow forza Vincenzo Lucy che ti saluta poi ci sono quelli che hanno fatto come te ciao Teo anche mio marito è in pensione da due mesi più o meno fa la stessa cosa ma in moto ecco in questo caso in moto ed è Mara che ci manda questo messaggio ti saluto ti fanno tanti auguri in bocca al lupo insomma a Vincenzo Cervi tra l'altro se volete diventare fan di Vincenzo c'è la pagina Facebook Vincenzo Cervi così lo sostenete lo seguite lui credo ogni giorno metterà qualcosa adesso vi faccio sentire e vedere un attimo la tappa partenza da Bergamo ecco qua vediamo lo possiamo seguire partenza da Bergamo la sua bicicletta che avete già visto in anteprima il viaggio in treno verso Aosta l'arrivo ad Aosta che riconosco da questa da questa piazza bellissima città romanica Aosta fantastico cosa hai detto fino a qui siamo arrivati vanno da Aosta Aosta è stato tutto facile in treno hai detto che è stato tutto facile Vincenzo in treno in treno però aspetta 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 parla dopo perché c'è la musica adesso così sentiamo qua siamo ancora da Aosta poi la la partenza hai bucato qua cosa hai fatto prima foratura prima foratura ma come si fa ma il camisè si è piegato anche il portapacchi che adesso l'ho sistemato no andiamo avanti così ok poi c'è la pista ciclabile ciclabile che vediamo un casino andare a prenderla però bella fantastico allora abbasso un po' la musica così intanto vediamo le immagini dato che Vincenzo l'abbiamo in diretta qua vediamo eccola la strada che tu ricordi bene no Vincenzo molto per il vento per il vento soprattutto per il vento senti torniamo invece torniamo invece in diretta lascio le immagini perché c'è la musica e quindi verresti coperto dalla musica con la voce invece mi interessava sapere ecco la tua preparazione qua non si scherza qua sei partito e quindi una preparazione fisica ci vuole sei pensionato ricordati che sei in pensione sei giovanissimo comunque qual è stata la tua preparazione la preparazione una vera preparazione testa bassa non c'è stata diciamo c'è stato sicuramente un allenamento che parte da ormai parecchio tempo non dico un anno ma più o meno dove facevo uscite in bici alternate alla corsa e diciamo sono arrivato a fare 15-20 chilometri di corsa e bici fino a 120-130 chilometri per avere un po' le gambe e poi non ho avuto diciamo nessuno che mi ha particolarmente seguito su questa cosa anche perché sono ormai non so penso 30 anni che vado in bici alternato alla all'arrampicata e per cui bene o male mi mi arrangio diciamo così ti gestisci sei un'autodidatta però non sei uno sproveduto non è che hai deciso faccio il giro in bici e non sei mai andato in bicicletta sei uno sportivo quindi è importante e come alimentazione come alimentazione niente ho dietro barrette ho dietro diverse cose tipiche dei ciclisti e poi ovviamente la mattina una buona colazione fette biscottate marmellata queste cose e poi la sera diciamo tipo ieri sera avrei mangiato anche i copertoni della bici perché ero veramente affamatissimo ho mangiato di tutto ma quindi proteine o carboidrati quindi bruci al momento beh durante il giorno se c'è roba di carboidrati è meglio infatti le barrette c'è dentro parecchio carboidrato poi non so mi sono fermato a mangiare un panino che fa parte del giro poi ieri ho preso tonno verdure queste cose qua diciamo alterno poi dovrò sicuramente fermarmi a qualche parte per qualche bistecca di turno per ovvi motivi diciamo l'alimentazione è normale nulla di nulla di eccezionale quando arrivi a Firenze poi è una bella fiorentina secondo me in quel caso senti e poi hai la tua la tua tenda da viaggio quindi quando arrivi vai nei campeggi o ti fermi come ti sei organizzato l'idea è di andare nei campeggi dove dove trovo però ci sono alcuni passi che mi piaceva dormire diciamo wild cima a questi passi però sarà più avanti ok poi c'è la zona della Sardegna lì c'è parecchi sono parecchi posti dove ci si può fermare wow che bello dai allora io non vedo l'ora di seguirti magari in settimana settimana prossima saremo un po' con te poi guarderemo un po' di foto che tu metterai sulla pagina facebook ecco chiedetegli l'amicizia Vincenzo Cervi così lo seguite e anche noi saremo più pronti per poterci collegare quando succederà qualcosa di speciale ecco tu raccontaci il tuo viaggio fai il tuo diario di viaggio Vincenzo è una bellissima cosa quella che stai realizzando un po' ti invidio sinceramente mi piacerebbe essere lì con te hai deciso però di farlo da solo questo questo viaggio c'è una motivazione è questione diciamo di testa ho sempre fatto qualsiasi cosa un po' particolare l'ho sempre fatta in solitaria non ho mai così ma è una una cosa mia sia in arrampicata sia in qualsiasi altra roba che ho fatto sempre in solitaria ti trovi bene così però quest'anno il tuo amico ha avuto l'idea invece di farcelo sapere quindi tanto solo non sarai tanto solo non lo fai tanto in solitaria Vincenzo allora intanto grazie vi faccio vedere vi faccio vedere ancora queste immagini questa bicicletta il bacio non c'entra nulla queste giusi che salutiamo la moglie ecco la bicicletta la bicicletta e poi la cartina di questo Giro d'Italia di questi 7000 chilometri sai quando si parla del Giro d'Italia in bicicletta io lo immaginavo proprio come il tuo no? proprio così a perimetro tutto il Giro d'Italia lui fa un vero Giro d'Italia proprio circunnavighi sostanzialmente tutto il nostro tutta la nostra la nostra penisola quindi complimenti Vincenzo adesso parti parti subito sì sto preparando penso nel giro di un'oretta un'oretta prossima tappa quindi adesso dove sei? forse non te l'ho chiesto adesso sono in zona Ivrea e prossima tappa arrivo a Torino Torino a Torino ne è quindi con i Gianduia tutte queste cose qua recuperi un po' Torino faccio il giro poi me ne esco e punto Aschi dove penso dormirò ok fai le foto alla tua tenda qua ti salutano ancora un saluto biciclettoso da chi ti ha fatto il viaggio di nozze in bici Biri e Marco pensa hanno fatto il viaggio di nozze in bicicletta mi viene voglia di evadere vedi che guarda stai muovendo la voglia a tanti nostri amici complimenti Vincenzo per aver tradotto in realtà un sogno buona pedalata vedi ormai i tuoi fan mi raccomando andate a cercarlo Vincenzo Cervi chiedete l'amicizia bombardatelo di amicizie che è importante così lo sosteniamo e poi ci sentiamo la prossima settimana ci fai vedere ancora la bicicletta con la bandierina di Radio Alta eccola lì guarda che bella brava Giussi brava chissà chissà fra due mesi e mezzo come sarà questa però mi ha detto Vincenzo che ne hai fatte due ne hai due di bandierina con Radio Alta fantastico allora Vincenzo grazie davvero in bocca al lupo buon viaggio buon viaggio divertiti soprattutto e ci sentiamo la prossima settimana colazione con Radio Alta Radio Alta